Un saluto dalla redazione di Radio Fisco e benvenuti a Fisco in Podcast. Tema di oggi, l'esportazione preferenziale di Ettore Sbandi. Le vie per l'accesso al regime sono tre, certificati EUR1, status di esportatore autorizzato e registrazione al REX. Diversamente dal regime del Made in, il sistema dell'origine preferenziale non qualifica i beni sul piano commerciale, ma solo fiscale e doganale. Con gli accordi di libero scamabio, le merci di origine preferenziale come tali correttamente autodichiarate dagli esportatori, beneficiano infatti dell'accesso del sistema preferenziale ad azio zero. La certificazione dell'origine preferenziale delle merci, però, necessita di un duplice piano di approfondimento, uno sostanziale ed uno formale. Quanto al primo tema, quello sostanziale, gli operatori devono essere in grado di stabilire se i propri beni sono interamente ottenuti nell'UE o, almeno, sono i vi sufficientemente lavorati. Quanto alla certificazione di origine, semplificando, le strade sono sostanzialmente tre. L'emissione di certificati EUR1, l'accesso allo status di esportatore autorizzato e la registrazione al REX. Quanto alla prima modalità, quella storica e tradizionale, applicabile ad esempio in tutti i sistemi paneuro-mediterranei, la novità di rilievo consiste nelle procedure di rilascio di certificati, che saranno prossimamente attivati, dall'autorità doganale italiana. Procedura, senz'altro ancora faraginosa e dispendiosa. Per prescindere da queste problematiche, se non già obbligatorio, è possibile accedere alla qualifica di esportatore autorizzato, procedura assai utile e che consente di apporre un'autodichiarazione dell'esportatore, direttamente in fattura. Lo status è rilasciato previo audit doganale, fatto questo, che non incoraggia molte PMI. Molto più snello, invece, il sistema REX, l'unico utilizzabile, ad esempio, negli scambi con Giappone, Canada o UK, essendo ora attivata una procedura che deve rapidamente essere posta in essere da tutti gli operatori nazionali. Con la pubblicazione della circolare 4 barra di barra 2020, l'agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al REX di tipo informatico ed estremamente funzionale. Dunque, il portale è ora pronto ed operativo dal 25 gennaio 2021, e pertanto, le esportazioni, quali quelle verso UK, dovranno essere effettuate, da operatori registrati, se vorranno beneficiare di un sistema di dazzi azzerati. Si pone il tema, però, delle operazioni a ridosso di tale data, e si presume, anche di quelle successive, perché è certo che non tutte le imprese italiane saranno iscritte al REX in poche ore o in pochi giorni, anzi, è probabile ci vogliano mesi per addivenire a tale risultato. Il warning, dunque, ora è duplice, sia per i soggetti REX, sia per quelli non ancora iscritti. Per i primi, è necessario procedere alla manutenzione dell'autorizzazione, aggiornandola anche con i codici di nomenclatura combinata, relativi alle merci di interesse, nel contesto dell'accordo e barra Regno Unito. Per gli altri, soprattutto, scatta la corsa REX, dovendosi al più presto attrezzare per la registrazione, così da essere subito perfettamente allineati, al quadro normativo. In alternativa, l'origine può essere anche dichiarata mediante un'autodichiarazione di conoscenza, da parte dell'importatore, cosiddetta procedura di importer essere nolevi. È una pratica per certi versi rischiosa, ma sicuramente in molti casi risolutiva, come per esempio avviene per gli scambi infragruppo. Mancano però, sul punto, prassi amministrative chiare e precise che individuino i profili di controllo nel caso in cui l'autodichiarazione in parola sia sottoposta ad audit doganale. A risentirci al prossimo approfondimento di Fisco in Pogst.